Buonasera a tutti gli amici di Ancora Italia TV, è più di cent'anni che tra israeliani e palestinesi è in corso un conflitto per il possesso di quella che fu la terra santa oggi, una terra di sangue. Ne parliamo stasera con l'analista politico Giorgio Lombardi, il saggista giornalista Franco Fracassi e lo storico Paolo Borgognone. Buonasera a tutti, iniziamo subito Giorgio, come vedi la nascita di questo conflitto, il tuo giudizio da che cosa è dovuto e come secondo te si sta comportando Israele, poi dopo magari ci dirai anche la posizione del partito repubblicano, del partito democratico in America, ma adesso dici un po' come la vedi tu. Sapete bene che il conflitto tra gli israeliani o lo Stato di Israele e le popolazioni che c'erano lì va avanti da non cento anni ma tremila, letteralmente tremila. Ai tempi del re Davide che sconfisse Golia eccetera, c'era già la guerra con i filistei che erano lì e quindi non è che una cosa che va avanti adesso. Poi dopo che l'impero romano distrusse praticamente Israele a tutto l'atto pratico, 60 anni dopo la morte di Gesù Cristo o 30 più o meno, quel periodo lì, appena dopo la morte di Gesù praticamente lo Stato di Israele fu completamente raso al suolo e venne diviso tra l'Egitto, l'Assiglia eccetera eccetera, per poi essere ricostituito nel 47 dopo la guerra. È chiaro che ci sono stati dei problemi, c'è stata la guerra dei sei giorni negli anni 60, poi di nuovo, quindi i problemi ci sono sempre stati. Il problema principale è che ci sono delle popolazioni o almeno della parte della popolazione sia in quello che è la Cisgiordania, cosiddetto West Bank, praticamente a est dello Stato di Israele e quelli che invece sarebbero i vecchi filistei sulla striscia a ovest di Israele, che sarebbe praticamente quello che adesso vediamo nei telegiornali che chiamano Gaza, i quali hanno delle attitudini leggermente diverse l'uno dall'altro. Il fatto rimane che chi sponsorizza tutto questo sono i fondamentalisti islamici che una volta avevano iniziato con Bin Laden, poi erano andati avanti con i talebani, poi sono subentrati praticamente gli iraniani, i mullahs iraniani, poi dopo sono subentrati l'Isis e praticamente tutti quanti ce l'hanno con Israele, però la scusa di Israele non fa nient'altro che arricchire questi grandi signori, i quali prendono milioni se non centinaia di milioni. Il capo di Hamas ha una villa da circa 100 milioni di dollari negli Emirati Arabi, più non si sa bene che cosa abbiano. Quando due giorni fa hanno scavato sotto uno degli ospedali che hanno preso, hanno trovato praticamente uno degli appartamenti con dei cachet di armi che non finivano mai, compresi, razzi e tutto il resto, proprio sotto l'ospedale. Oggi in questo momento, mentre parliamo, continuano da Hamas, dalla cosiddetta striscia di Gaza, continuano a mandare razzi su Tel Aviv, hanno colpito, hanno ammazzato un paio di persone, hanno ferito un paio di 5 o 6. In questo minuto, mentre parliamo, quindi la guerra continua e vedremo come va a finire. Però bisogna capire che dietro Hamas, così come dietro Hezbollah, c'è sempre l'Iran e dietro l'Iran c'è la Cina, perché è la Cina che praticamente compra 100% di tutto il petrolio che l'Iran produce, li paga e li paga anche con armi che poi loro passano ai loro amici terroristi sia in Libano che in Gaza. Sì, noi abbiamo inteso titolare questa puntata, sono la guerra dei cent'anni, perché ci siamo fermati, così siamo all'epoca contemporanea, in effetti a ben guardare è uno scontro biblico direi proprio, appunto giustamente è ricordato il re Davide contro i filistei giganti, perché insomma Goli era un gigante. Franco, è proprio così come dice Giorgio, cioè dietro Hamas, dietro il terrorismo di Hamas e quindi fatti dal 7 ottobre ci sono i paesi arabi, oppure come si dice da più parti, questi grandi finanziamenti che mi pare venissero dal Qatar sono stati molto aiutati da Netanyahu. Allora, se posso, diciamo che la storia che vorrei raccontare è, non dico diametramente opposta, ma insomma molto 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 distante da quello che raccontava Giorgio, peraltro. Fino agli anni, fino alla fine dell'Ottocento laggiù era tutto tranquillo, non più o meno ebrei con i musulmani e i cristiani andavano d'accordo, insomma la Palestina è un posto più o meno pacifico. E' iniziata a destabilizzarsi nemmeno con l'arrivo dei primi zionisti alla fine dell'Ottocento e 1900, ma con la decisione dei britannici di destabilizzare quell'area, in virtù, diciamo per favorire l'intervento degli Stati Uniti nella prima guerra mondiale per poter vincere la guerra, hanno fregato sia gli arabi sia gli ebrei, insomma, facendo una dichiarazione che poi non hanno mantenuto, la dichiarazione Balfour, quello serviva per fare entrare gli Stati Uniti nella prima guerra mondiale, e poi fregando gli arabi che avevano combattuto per loro contro i turchi. Per quanto riguarda, e diciamo che allora sono incominciati veramente i problemi, e in realtà i primi problemi sono iniziati contro i britannici, ce l'avevano sia gli arabi che gli ebrei, e ce l'avevano contro i britannici. Invece per quanto riguarda Hamas, e allora Hamas nasce negli anni Ottanta, nasce perché, e questo l'hanno dichiarato in tutti i modi, insomma non è una supposizione, quanto gli stessi israeliani hanno dichiarato, Hamas nasce perché Israele vuole destabilizzare l'organizzazione per la liberazione della Palestina, che è un'organizzazione totalmente laica, e pensa che favorendo l'islamizzazione dei palestinesi, insomma Arafat venga messo in difficoltà. Ed è quello che, non tanto Arafat, ma quello che poi accadrà un paio di decenni dopo, quando Arafat sarà già morto. Hamas è un movimento politico, è un movimento politico che nasce da fratelli musulmani, sono i fratelli musulmani palestinesi sostanzialmente, i fratelli musulmani è un movimento politico che è stato appoggiato in tutti i modi, e le primavere arabe ne sono testimoni, dagli Stati Uniti d'America. ha in Palestina, che non solo in Gaza, ma anche in Cisgiordania, ha avuto una sua diffusione, però il punto è che intanto Cisgiordania e Gaza sono due realtà molto diverse tra di loro, molto diverse perché Gaza è proprio una gabbia, la Cisgiordania è molto più aperta. Secondo poi, l'autorità nazionale palestinese ha avuto sede a Ramallah in Cisgiordania e l'autorità nazionale palestinese, finché c'era Arafat, era dominata dal partito di Fatah, che è quello laico. E quindi, essendo proprio due entità separate, cioè Gaza e Cisgiordania, non possono comunicare tra di loro, essendo due entità separate ed essendo Gaza vicino all'Egitto, da dove provenivano, i fratelli musulmani, Hamas ha attecchito molto di più a Gaza, non completamente, ha attecchito semplicemente di più, tant'è vero che quando ci sono state le elezioni, nelle ultime elezioni del 2008, Hamas a Gaza non ha stravinto, ha vinto, ha preso più voti rispetto ad Al-Fatah. Al-Fatah non c'è stata, non ha più voluto elezioni, non ci sono più state elezioni, cioè in questo momento l'autorità nazionale palestinese è abusiva, sono 15 anni che è abusiva, ha cancellato quel risultato elettorale, non ci sono più state elezioni, c'è stata una vera e propria guerra civile a Gaza, non in Cisgiordania, perché in Cisgiordania quelli di Hamas sono stati cacciati con grande facilità, e questa guerra civile ha sancito una sorta di spartizione, al partito di Hamas, la Gaza, e al partito di Al-Fatah, la Cisgiordania, più o meno le cose sono date in questa maniera. E vorrei aggiungere che Hamas si trova in una situazione particolare, perché Gaza, come anche la Cisgiordania, sono territori occupati, così sono definiti, sono territori occupati, questo ufficialmente, da uno stato colonizzatore che è Israele, nel senso che loro non possono fare nulla, non possono stabilire l'erogazione dell'elettricità, dell'acqua, non hanno le banche, non hanno assolutamente nulla, cioè dipendono esclusivamente da Israele. E tutti i soldi che riceve Hamas, al di là di quelli che stanno fuori, la corruzione, quella è un'altra storia, diciamo una corruzione da albergo ovunque, basta vedere Netanyahu quanto sia corrotto, insomma non è che fa differenza l'uno all'altro, ma tutti i soldi che Hamas riceve dentro Gaza, che sono quelli che poi alla fine fanno sopravvivere gli abitanti di Gaza, essendo completamente chiusi in una gabbia, in qualche modo dovranno pur sopravvivere. Tutti i soldi che Hamas riceve dentro Gaza sono autorizzati allo Stato di Israele, cioè senza l'autorizzazione di Israele. Hamas, non dico non esisterebbe, ma insomma avrebbe molta difficoltà a fare le cose. aggiungo che Hamas ha avuto e ha sempre avuto posizioni molto distanti dalle posizioni saudite, l'Arabia Saudita è quella che sta dietro, anzi i paesi del Golfo sono quelli che stanno dietro all'ISIS e soprattutto al-Qaeda, ha avuto sempre posizioni molto distanti, tant'è vero che quando c'è stato l'accordo recente, l'accordo di Abramo, quello proposto da Donald Trump, tra Israele e i vari paesi del Golfo, un accordo commerciale. Peraltro io nel libro Guerra alla Pace racconto che l'Arabia Saudita e Israele in realtà avevano già discreti rapporti da diverso tempo attraverso i servizi segreti, insomma c'era una comunione di intenti. Quando c'è stato questo accordo i palestiniani sono stati totalmente bypassati perché all'Arabia Saudita di Israele non frega assolutamente nulla, non è mai fregato nulla di Israele e così anche agli altri paesi arabi, tant'è vero che aggiungerei tutte le guerre che gli Arabi hanno scatenato contro Israele, che sono state varie, è stata quella del 47-48, quella del 56, quella del 67, quella del 73, beh, queste quattro guerre nessuna ha avuto come protagonisti i palestinesi. I palestinesi sono state le vittime di tutte e quattro le guerre e agli Arabi non è mai fregato nulla, anzi quando non hanno potuto massacrare i palestinesi l'hanno fatto beatamente senza porsi nessun problema. Quindi diciamo che la situazione è un po' più complicata di quello che si vuole far passare e aggiungo il fatto che l'Iran, anche l'Iran non è... Hamas sono i fratelli musulmani, sono sunniti, l'Iran è scita, l'Iran sicuramente è stato dietro e sbola, anzi, non sicuramente, è chiaramente emanazione dell'Iran, non lo nascondono, lo dicono in tutti i modi, ma non Hamas. Hamas è proprio un'altra storia, un'altra parrocchia, non c'è nessun rapporto da quel che mi risulta tra Hamas e l'Iran. Sì, però mandano i razzi in Israele tutti e due allo stesso tempo. Quella è un'altra storia. Quindi mi pare che le attività sono abbastanza coordinate, insomma. Sul fatto che non Hamas in Israele quella è un'altra storia e possiamo essere d'accordo su questo. E credo che alla fine la necessità faccia virtù, quindi combattiamolo insieme. Diciamo che Hezbollah sta approfittando della cosa, della situazione. Hezbollah sarebbe l'Iran, sta approfittando della situazione per vedere fino a dove si vuole spingere Israele. Appunto, per allargare la guerra. Però se non vogliono allargare la guerra non c'è bisogno di mandare cento razzi al giorno sul territorio israeliano. Siamo d'accordissimo. Siamo d'accordissimo. Però diciamo che chi vuole allargare la guerra sono tanti i soggetti. E c'è anche gli Stati Uniti che hanno bombardato la Siria, hanno portato una porta aerei a prendere la guerra iraniana. No, no, no. Come no? La Siria è stata bombardata, compreso oggi e ieri, solo perché i siriani, cioè non tanto i siriani, quanto gli iraniani che stanno in Siria, perché non bombardano l'Iraq e tutte le basi americane dall'Iran, chiaramente. lo fanno perché sono comunque dei vigliacchi iraniani, lo fanno fare dai loro subordinati in Siria così che i siriani, cioè che sono iraniani, in Siria bombardano 57 negli ultimi tre giorni, 57 basi militari americani in Iraq e in altri posti e quindi gli americani non possono ricevere 57 razzi e non rispondere, perché si bombardano quelle basi da dove arriva. Hanno bombardato l'aeroporto civile, hanno bombardato l'aeroporto, atterrano gli aerei normalmente, dove atterrano gli aerei civili, come lo so, lo so perché io ho una mia lettrice che è un personato. Sì, ma se i razzi partono da lì, tu bombardi da dove partono i razzi. Quando c'è stata la seconda guerra mondiale, i tedeschi hanno massacrato a Roma le forze ardiatine e tutto il resto, tutti quelli che, non quelli che combattevano, non è che andavano a cercare i partigiani sulle montagne, andavano e ammazzavano tutti i civili di quel paese dove erano stati ammazzati. Scusate ragazzi, scusate, sembriamo la sette altrimenti se facciamo questi barpiglia. No, giustamente, passiamo da Paolo, però ecco, Giorgio citava una sorta di diritto di rappresaglio o comunque di fatto che in guerra avvengono questi casi di rappresaglio. Allora, Paolo, vengo a te. Oltre alla tua opinione, ovvio, su come sia nato il conflitto e come si sta poi sviluppando in questo momento, a tuo giudizio, ecco, si sta andando oltre il famoso diritto di Israele a difendersi e quindi, come si dice da più parti, ci sia una vera e propria strategia di Stato per una punizione collettiva dei palestinesi? Oppure, come suggerisce Giorgio, in fin dei conti, se tu hai dei terroristi che si mischiano tra i civili e che quindi combattono senza divisa, vi è in fin dei conti il diritto alla rappresaglia da parte di Israele? Beh, se i palestinesi avessero carri armati, avviazione, bombe atomiche probabilmente non avrebbero bisogno di fare… Ma non si mettono neanche la divisa, si nascondono dietro le scuole e dietro gli ospedali, non diciamo stupidaggi dei carri armati, usano solamente razzi e bombe a distanza perché sono dei vigliacchi e sono dei vigliacchi perché si nascondono proprio le loro basi nelle scuole e negli ospedali per far vedere che ah, questi qui cattivi bombardano gli ospedali, ma loro si nascondono dietro e si vede… Giorgio, Giorgio… Perché non si mettono le divise, perché si mettono da civili… È chiara, è chiara la tua posizione… Fanno i milioni per comprare i razzi di ultima gettata, ogni razzo costa circa 5 milioni di dollari, ogni razzo costa circa 5 milioni di dollari, quelli di ultima generazione che hanno usato… Giorgio, scusa un attimo, è chiara la tua posizione… Perché non si comprano le divise… Giorgio, è chiarissima la tua posizione, sentiamo un attimo cosa dice Paolo, che poi intanto torno da te perché dopo il tuo turno così fai tutte le precisazioni del caso, vai Paolo prego, va avanti… Va bene, va bene… Quello che stavo tentando di dire è che la guerra viene condotta da due forze letteralmente impari, questo è chiaro, poi al di là delle divise che uno indossa, le forze sono chiaramente impari, Israele ha un potenziale bellico enormemente più grande di quello che non abbiano i palestinesi di Gaza o i palestinesi della Cisgiordania che non hanno neanche un esercito ma che sono così asserragliati nella costrizione di dover fare una guerra di guerriglia. Ma detto questo, non è quello israelo-palestinese un problema di ordine pubblico, a mio parere, ma forse anche a parere dell'ONU che ha fatto delle risoluzioni che dovrebbero essere in qualche modo applicate. Perché se noi ci concentriamo sul problema israelo-palestino come un problema di ordine pubblico, ovvero uno Stato democratico che sta combattendo un gruppo di terroristi, li sta snidando e questo però non corrisponde alla realtà storica. La realtà storica dice che Israele sta occupando illegalmente, e questo lo dice l'ONU, territori non suoi e che sta colonizzando illegalmente in Cisgiordania, per la precisione territori non suoi e che a Gaza sta conducendo una guerra di assedio di fatto, perché le condizioni di vita a Gaza sono quelle che sono e non credo che siano condizioni di vita invidiabili, anzi Gaza è stata dichiarata dall'ONU prima di questa ennesima escalation di conflitto, zona non abitabile, perché di fatto è una prigione a cielo aperto. E allora se ne vadano, vadano da un'altra parte. Certo, infatti è proprio quello che Israele vuole, bravissimo, non sono d'accordo, però è vero, perlomeno quello che è stato detto in questo momento è la verità, Israele vuole proprio quello, ma complimenti, grazie per aver detto questa cosa, perché c'è molta ipocrisia, perlomeno io non condivido le posizioni di Giorgio Lombardi, però riconosco che non è ipocrita, lui dice se ne vadano i palestinesi, vadano io, ma è esattamente quello che Israele vuole, detto questo il mio intervento può finire qui, la sintesi l'ha fatta lui, Israele ha questo obiettivo, ma lo dice l'ONU? L'ONU è una massa di persone pagate dai cinesi e lo sappiamo bene tutto, l'ONU non esiste più, è una farsa, è come il CDC, quei disgraziati che ci hanno voluto vendere il Covid e tutte queste stupidaggini, il Covid non è nient'altro che un'influenza normale o almeno un pochettino speciale perché viene dalla Cina, però ci hanno venduto le mascherine, tre cose eccetera eccetera e adesso la gente muore di colpi al cuore perché hanno preso troppe dosi di vaccino. No, 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 non è vero, non è vero, mi dissocio Giorgio, assolutamente non viene quella parola lì perché ho già due strike, chiedo scusa a tutti, vi ricordo di non usare quella parola lì perché abbiamo già due strike e se non ci chiudono il canale. Però se vengo interrotto ogni quattro secondi, concludi pure, vai. Altra grande verità, agli Stati Uniti non gliene frega più un cazzo dell'ONU, al di là che l'ONU faccia errori, sia così un'organizzazione perfettibile eccetera, ma quello che ha detto è esattamente così, soprattutto il passaggio precedente. Oggi al potere in Israele ci sono partiti politici, canisti, perlomeno seguaci del pensiero del rabbino Meir Cane, che avevano proprio questo obiettivo, il trasferimento forzato di persone. Fuori, fuori dai coglioni, se ne vadano in Iran, se ne vadano in Sinai, se ne vadano dove vogliono. Però svelato questo segreto di Pulcinella, a questo punto è presente la strategia, e non la dico solo io, esponenti politici palestinesi moderati, come Mustafa Barghouti, leader del partito iniziativa nazionale palestinese, dice esattamente questo. Quello che vogliono fare gli israeliani è buttare fuori i palestinesi da Gaza, però mi permette… I terroristi, non i palestinesi, i terroristi, che è un po' diverso. Ma il problema è che i palestinesi sono in maggioranza attualmente, pur essendo in maggioranza laici, sono in maggioranza favorevoli alla resistenza all'occupazione. E questo è il problema che fa della questione palestinese una questione politica e non di ordine pubblico. Perché se i palestinesi fossero tutti ostaggio di una banda di terroristi e non vedessero l'ora di poter avere i carri armati israeliani e la polizia israeliana e il governo israeliano sui loro territori, una questione di ordine pubblico si risolverebbe facilmente. Ma i palestinesi rivendicano il diritto alla loro patria, così come le risoluzioni dell'ONU attestano. In Cisgiordania c'è un problema di colonizzazione, in Cisgiordania c'è un problema in cui i coloni israeliani talvolta uccidono i palestinesi, più che talvolta. Ecco, questo è successo e sono stati anche processati alcuni. Perché quegli altri vengono e ne ammazzano dieci volte tanto. Ricordiamo, sì certo, ricordiamo la… Sì certo, piccola cosa che tu hai sorpassato. No, ma sì certo era ironico. Qui entrano in casa degli israeliani, ne ammazzano dieci, è possibile che uno di questi padri di famiglia che gli hanno ammazzato i figli, si incazza, va di là e ne ammazza uno. No, non è possibile perché uno… L'unica differenza è che quando loro ammazzano dieci israeliani nessuno li va a prendere perché scappano dalla parte loro e nessuno li va a… Se però un israeliano incassato va lì e ne ammazza uno, poi dopo va in più. Giorgio, come tu dici? Allora, se posso venire… Cerchiamo di parlare uno alla volta, ragazzi. Chiudi Paolo, chiudi Paolo così poi… Perché poi perdo continuamente il filo. Gli israeliani, i coloni che sono in Cisjordania, cosa dice l'ONU, non lo dice l'Iran, non lo dico io, o se ne vanno perché quelle terre sono colonizzate illegalmente o restano come stranieri. Basta, non è Israele quello, non è Israele, è terra palestinese, ma persino in Occidente ci sono voci che sostengono esattamente tutto questo. Queste non sono voci anche all'interno della Nato. Ci sono paesi che non sono per nulla favorevoli alle politiche di occupazione e colonizzazione. Politiche di occupazione e colonizzazione che vanno avanti indiscriminatamente da 70 anni e anche di più, e che hanno portato come risultato anche alla crescita di movimenti e partiti radicali islamici, chiaramente. Perché fino agli anni 80 del secolo scorso la resistenza palestinese era interamente laica, però veniva descritta come terrorista anche quella. C'è possibile che tutti quelli che non sono schierati supinamente dalla parte del suprematismo statunitense, israeliano, sono definiti terroristi? C'era un terrorista pure Mandela, nel senso ai suoi tempi, era stato 30 anni in galera. Io chiudo perché ho già parlato… È stato 30 anni in galera perché hanno ammazzato un mucchio di gente. Arrivo da te, Giorgio. Era terrorista pure Mandela, ma al di là di questo, però sto dicendo che il problema non è un problema di ordine pubblico, è un problema politico. Se si vuole risolvere questo problema attraverso il trasferimento forzato, la guerra e lo sterminio di massa, si farà soltanto, si otterrà soltanto l'effetto opposto, ovvero il palestinese che vede la sua famiglia, il bambino palestinese che vede la sua famiglia stermiata dall'esercito israeliano, non crescerà simpatizzante per l'esercito, la forza politica, il paese, le istituzioni, l'ideologia che gli ha sterminato la famiglia. Diventerà ancora più ostile a tutto questo. Certo, certo, Giorgio, tocca a te, tocca a te. Sono arrivati su Israele e che hanno iniziato questo processo, hanno ammazzato 1500 persone israeliane che esattamente adesso la pensano in quel modo lì, come dici tu, ma chi è che ha cominciato sono loro. Purtroppo questi sono i frutti della guerra, diciamo di sicuro cresce l'odio, non la comprensione e l'empatia tra le persone, questo è chiaro. Però ecco, tu che sei un fervido sostenitore di Trump, noi sappiamo che con Trump si è riusciti a stipulare i famosi accordi di Abramo. Ecco, allora volevo chiederti qual è la posizione oggi in America di quei repubblicani che avevano comunque spinto verso una pace e una normalizzazione dei rapporti tra palestinesi israeliani. Allora, la questione è un pochettino più complicata, come diceva giustamente Paolo, cioè abbiamo nel Medio Oriente due forze, i Sunniti e gli Ushiti. Per farla più semplice, l'Iran, fondamentalismo islamico che appoggia tutta una serie di azioni terroristiche o comunque violente e dall'altra parte la forza principale, l'Arabia Saudita che è sunnita e che è molto più per la pace e anche un pochettino più pro-occidentale perché comunque continua a vendere miliardi ogni giorno ai paesi occidentali, gli Stati Uniti, Europa, eccetera. Queste due forze si contrappongono. Quando c'era Trump, cosa ha fatto? Ha parlato con i Sauditi la prima volta che lui è andato in Arabia Saudita, è stato ricevuto molto bene e con i Sauditi ha detto facciamola finita con questa storia dell'Israele, eccetera. Ci sono i musulmani che vogliono la pace e che vogliono vivere in un modo decente, come tutti i paesi del Golfo che hanno un mucchio di soldi e non sanno neanche come spenderli e sono tutti felici di potersela godere. E poi ci stanno gli iraniani che invece vogliono dominare tutto quanto il Medio Oriente perché loro pensano di essere investiti da Dio o da chi che sia perché il loro fondamentalismo islamico è quello che dovrebbe controllare non solo tutto il mondo musulmano ma addirittura tutto il mondo come gli manzi in Italia o in Francia o in Inghilterra ti dicono pubblicamente in tutte le televisioni. Trump cosa ha fatto? Ha parlato con i Sauditi e ha detto cerchiamo di risolvere il problema palestinese. Noi Stati Uniti continuiamo ad assistere i palestinesi che sono i veri palestinesi nel West Bank e voi cercate di appoggiare tramite l'Egitto i residenti di Gaza in modo che possano avere una vita decente. Questo era in sostanza, a parte tutte le altre cose politiche, l'Abraham Accord. E praticamente perché Abramo? Perché Abramo era il figlio sia di Isacco che poi è il figlio è il figlio di Giacobbe Israele, però era anche il padre del figliastro, chiamiamolo, della seconda moglie Ismaele che poi fu cacciato ed andò in Egitto. Il problema è stato quando Trump aveva fatto anche degli accordi con i cinesi, parlando di economia e cercando di contenere questo partito comunista cinese molto aggressivo. I cinesi hanno detto va bene e per quattro anni c'è stata la pace totale, dappertutto, addirittura con i russi. Il momento che Trump se n'è andato ed è venuto questo scemo di Biden e i cosiddetti globalisti o il deep state, come volete chiamarli voi, cosa è successo? Che se tutto quanto quello che è stato la stabilità creata da Trump è crollata ed è crollata in parte perché i russi hanno cercato di sfruttare la debolezza ovvia a tutto il mondo, chiunque può vedere la debolezza del governo di Biden e hanno cercato di prendere un po' di più di territorio in Crimea che tra parentesi io considero comunque Russia perché è sempre stata Russia e hanno cercato di prendere quel territorio lì. Biden essendo uno scemo e comunque quelli che gli danno i consigli ancora più scemi di lui, hanno deciso di dare delle armi agli ucraini che poi hanno fatto un casino che non finiva male. Il secondo momento vedendo questa debolezza e vedendo l'America già coinvolta nell'Ucraina, l'Iran che sono dei pazzi completamente da legare, letteralmente da legare ed è una dittatura, è una dittatura teocratica ma è una dittatura totale, tu non puoi andare in Iran e dire quello che vuoi, ti fanno fuori immediatamente. Il Tehran che sono dei pazzi totali hanno detto sfruttiamo questa debolezza di un governo che è totalmente scemo e in più adesso è coinvolto con la Russia in Ucraina e appoggiamo i nostri amici sia in Siria, in Lebanon eccetera eccetera per vedere di prendere ancora di più. A questo momento io non so se sono stati gli iraniani, i cinesi oppure Hamas ha deciso di testa loro, non so per quale pazzo motivo. L'ultimo giorno che era un giorno religiosamente osservato, quindi una festa osservata come se fosse da noi la Pasqua, hanno preso duemila, tremila razzi di ultima generazione, questi razzi che sono cascati su Israele all'inizio il 7 di ottobre, non erano i soliti razzi che di soli sparavano anche solo due o tre anni fa. Questi qui erano razzi che costavano un accidente e quindi venivano da qualche parte che ha sovvenzionato questa azione militare, militare non parliamo di un'azione politica, un'azione militare perché quando tu spari due o tre mila razzi che costano più di un milione l'uno, è un'azione militare, è l'inizio di una guerra. Quindi chi è che gli ha dati? Chi li ha pagati? Certo non è Gaza perché sono d'accordo con Paolo, non hanno i soldi per comprarseli, non hanno i soldi per comprarsi il pane. Quindi da dove sono venuti? Non sono venuti da aiuti, amici, non certamente dai sauditi. Questi sono razzi che sono caduti su Israel e siamo andati a guardare e sono razzi di fabbricazione cinese. Ascolta, Giorgio, scusami se ti interrompo, però siccome Franco mi aveva detto che doveva andare alle sei e mezzo, siamo già andati oltre, lo ringrazio, così gli facciamo fare un ultimo intervento sulla corso della guerra. Al di là del fatto che hanno ragione gli uni e gli altri soprassediamo in questo momento, però a tuo giudizio, visto che in questo momento di fatto la parte nord di Gaza è occupata dagli israeliani o comunque è interessata dalle azioni dell'esercito terrestre, a tuo giudizio l'obiettivo che oggi si pone Netanyahu è quello di fermarsi lì, quindi sostanzialmente di comprimere ulteriormente il territorio di Gaza, lasciando agli palestinesi solo la parte sud, oppure le intenzioni che possiamo in questo momento leggere attraverso anche le dichiarazioni politiche che vengono fatte da parte israeliana è proprio quella, come veniva suggerito prima, di arrivare fino al confine con l'Egitto e quindi espellere completamente tutti i palestinesi da Gaza. Allora, non è una domanda semplice a corrispondere per una serie perché ci sono tanti attori che sono in gioco in questo momento. Mettiamola così, io qualche giorno fa ho trovato, non è che era nascosto, era sotto gli occhi di tutti, però insomma un documento del Likud, il Likud è il partito di Netanyahu, quindi insomma non è travisabile in nessun modo, un documento del Likud in cui, che si intitolava più o meno cosa faremo di Gaza una volta che avremmo cacciato tutti i palestinesi, dove era stato già organizzato tutto, nel senso ci sono già i piani urbanistici per la ricostruzione di Gaza, ci sono già i soldi che gli israeliani danno all'Egitto per prendersi 2 milioni e mezzo di profughi, ci sono già le richieste fatte all'Europa per annullare parte del debito egiziano per far sì che l'Egitto ingoi 2 milioni e mezzo di profughi. E poi c'è la parte più importante, ovvero il gas che si trova a Gaza, che gli israeliani sono 24 anni che impediscono che venga estratto dai palestinesi, che loro in questo documento scrive questo gas è roba nostra, quindi ce lo prenderemo noi, che insomma è un altro livello di discussione. Il punto è che un piano del genere, che è chiaramente un abominio e le Nazioni Unite non l'approverebbero mai, dipende tutto non tanto agli israeliani, perché Netanyahu non ha mai nascosto le sue intenzioni su quello che vorrebbe fare, ma dipende dagli altri paesi, ma non da quello che dicono, da quello che fanno. perché agli israeliani non gliene frega assolutamente nulla di quello che pensa il mondo di loro, non gliene è mai fregato nulla, l'hanno sempre detto in tutte le salse possibili e immaginabili e chi è stato da quelle parti se ne è anche reso conto personalmente dell'atteggiamento che hanno nei confronti degli stranieri, proprio non gliene frega niente. Recentemente è stato riproposto un'intervista che Netanyahu ha rilasciato nel 2001, quindi pensate un po', 22 anni fa. È un'intervista illuminante, perché in questa intervista lui dice noi israeliani facciamo quello che ci pare, noi gli palestinesi vogliamo farli fuori tutti, almeno noi. C'è l'intervistatore che è molto preoccupato, perché non ci va tanto piano con le parole, lui dice che i palestinesi li faremo fuori tutti, del fatto di quello che possano pensare fuori da qui non ce ne frega niente, perché tanto tutto il mondo alla fine fa quello che vogliamo noi, perché l'Europa è in qualche modo a un debito nei nostri confronti, quindi alla fine non ci dice nulla, borbotta, ma alla fine non fa assolutamente nulla, e, aggiunge, i presidenti degli Stati Uniti non si metteranno mai contro di noi, perché noi controlliamo l'80% dell'opinione pubblica americana. Queste sono le parole di Netanyahu, non lo dico io, questo è quello che ha detto Netanyahu in un video, cioè lui è intervistato e dichiara queste cose, sono chiaramente sorprendenti. Dubito molto che Netanyahu dica che controllo l'80% dei video americani. Non lo so, ma non so se... Giorgio, che sia vero che li controlli è dubbio, ma che l'abbia detto però, ecco l'ha detto. C'è una cosa diversa. Sono di chiesti? C'è il mitomale Netanyahu? Io non lo posso sapere. Chiediamo Franco che poi... La domanda è su cosa faranno gli israeliani. Uno deve entrare nella testa di Netanyahu, perché è lui che decide alla fine, no? Allora, il punto di vista di Netanyahu è questo, non è che c'è un altro. Allora, l'unico modo per farlo recedere da questa sua intenzione è quella che i due soggetti che possono fare qualche cosa, perché la Russia non può fare nulla, la Russia in questo momento potrebbe fare tanto, ma non può fare nulla perché con Israele è un imbarazzo pazzesco, perché un terzo dei cittadini israeliani sono russi, perché i cittadini che contano israeliani sono russi e perché, diciamo, non solo i cittadini israeliani che contano sono russi, ma sono anche i russi che contano dentro la Russia. Quindi in questo momento la Russia è in enorme imbarazzo, infatti si è tenuta fuori da ogni cosa. Quindi la Russia non può fare nulla. Rimangono Europa e Stati Uniti, sono gli unici due soggetti che possono fare qualche cosa nei confronti di Netanyahu. E tutto dipende da loro, nel senso, lasceranno fare a Netanyahu tutto ciò che vuole oppure no. Deciderà l'Unione Europea, cioè la von der Leyen, che ha già stoppato, perché il Belgio ha già detto fermiamoli, e la von der Leyen, il governo belga, la von der Leyen ha detto il governo belga non parla a nome dell'Unione Europea. Quindi è la von der Leyen che ha preso una posizione molto netta. Quindi deciderà la von der Leyen e poi deciderà Biden. Sono i due soggetti che hanno in mano il destino di Gaza. Netanyahu è stato chiarissimo e non dipende da lui come andrà a finire. Dipende da questi due soggetti. Se questi due soggetti pensano che sia giusto che Netanyahu porti a compimento i suoi scopi e il suo piano, questo è quello che accadrà. Altrimenti succederà altro. Cosa di altro potrà succedere non ne ho idea, perché poi quella situazione è talmente complessa, ci sono talmente altri protagonisti in mezzo che veramente potrebbe succedere un'escalation senza pari. Io però sono le 6 e 44. Sì, allora sì. Devo veramente andare. Saluto Giorgio anche se non sono d'accordo con lui. Mi è piaciuto molto discutere con lui. E saluto Paolo molto caramente. Grazie Franco per essere stato con noi. Intanto in chiusura ci sarebbero anche alcune domande rivolte dal pubblico a te, ma vedo che non hai tempo. Allora voglio solo ricordare il tuo ultimo libro, Guerra alla Pace, se vuoi dirci brevemente di cosa parla. Il libro Guerra alla Pace, il titolo già di per sé spiega un po' di cose, parla del fatto che Israele e Palestina non è che non fanno la pace perché si odiano i vari popoli, non fanno la pace perché ci sono dei soggetti che nel corso di questo secolo, oltre secolo di guerra latente o meno, hanno acquisito delle posizioni di potere tale per cui hanno tutto da perdere dalla pace e tutto da guarnare dalla guerra. Quindi non c'è la volontà di fare la pace. E finché chi ha potere non avrà la volontà di fare la pace, la pace non si farà. Si racconta ovviamente la storia del conflitto, si raccontano tantissime cose. Ci sono anche molti, quelli che si chiamano scoop, cioè cose che di solito non si leggono da nessuna parte, che sono, almeno per chi l'ha letto, mi hanno scritto che sono molto sorprendenti e la gente è rimasta stupefatta da quel che c'è scritto. L'unico modo che si ha per avere quel libro è scrivermi alla mia e-mail personale, non c'è altro modo, che è francofrecassi1-gmail.com. Non lo potrete avere in nessun altro modo. Quindi se vi interessa, vi interessa chiarirvi le idee su quello che sta accadendo laggiù. Comprate il libro e comunque leggere non fa mai male. Io credo che è alla base quantomeno della consapevolezza. credo che sia un libro completo su tutto quello che si può sapere su quell'area. Ed è frutto di circa 14 anni di inchiesta fatta in parte laggiù, in Israele e Palestina, ma anche in tantissimi altri paesi. Sono andato e ho intervistato persone e ho raccolto documenti in Egitto, in Giordania, in Libano, in Siria, in Francia, in Italia, in Germania, in Regno Unito, in Canada e negli Stati Uniti. Quindi diciamo che è un'inchiesta veramente a tutto tondo, insomma. Noi invitiamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori a leggere, metteremo poi il link che ci hai dato in descrizione. Grazie Franco per essere stato con noi. Ora, ritorniamo sulla questione magari anche più politica, così sentiamo l'opinione di Paolo e poi di Giorgio su questo punto. Perché qualcuno, penso ad esempio al professor Rossini, ha detto che in fin dei conti da un punto di vista politico Amas ha già vinto in quanto Netanyahu, si sa, ha dei problemi di alleanze che in questo momento gli stanno venendo un po' meno. Parlo proprio delle alleanze interne, all'interno del Parlamento, anche perché poi il clima internazionale è cambiato attorno a Israele, in quanto da più parti viene chiesto con urgenza la creazione di uno Stato palestinese, quindi due popoli, due stati, insomma è tornato ad essere uno slogan d'attualità. E in fin dei conti pare che Netanyahu possa rimanere in sella al potere solo finché continui la guerra. Quindi anche questo aspetto, diciamo, non lo induce troppo a pensare ad una pace imminente, a fermare l'invasione della stiscia di Gaza. Tu cosa ne pensi Paolo? Penso che la società israeliana, così come ci viene raccontata, non corrisponde al vero. La società israeliana è molto più divisa di quanto si possa pensare. La società israeliana non è fatta allora in Medio Oriente, nel vicino Medio Oriente ci sono musulmani, ebrei, cristiani. Tutti questi religioni, tutte queste confessioni, al loro interno, hanno una pluralità a loro volta di confessioni, punti di vista, opinioni, credenze. In Israele ci sono anche moltissimi arabi israeliani che sono cittadini di Israele, ma talvolta vengono anche messi sotto pressione da parte delle forze più nazionaliste sioniste interne. Tant'è vero che i partiti suprematisti israeliani vedono addirittura come un problema il fatto che ci siano degli arabi israeliani, degli arabi all'interno di Israele stesso. Ma a parte questo, poi la stessa maggioranza ebraica di Israele è divisa, ci sono gli aschenaziti, i sefarditi, i falashah, e ciascuna di queste confessioni ha un proprio campo politico di riferimento. Poi ci sono gli immigrati russi, gli immigrati ucraini, gli immigrati russi e ucraini spesso e volentieri, dopo il 91, per farli emigrare, è stato promesso loro, la terra promessa, ma poi sono stati mandati nelle colonie a fare proprio i settler, i coloni. Ma anche loro hanno i loro partiti di riferimento, ad esempio c'è quello di Lieberman, che è un moldavo, mi sembra comunque di lingua russa, poi c'era quello di Sharansky, eccetera, eccetera. Adesso Sharansky credo che sia un po' politicamente in declino in Israele, ma c'è stato anche lui. Per dire che la società israeliana è molto divisa, Netanyahu ha avuto nel risponso delle urne una vicinanza da parte di partiti di orientamento nazionalista radicale, partito nazionale religioso, sionismo religioso e potere ebraico, soprattutto quest'ultimo è erede della tradizione politica kaanista, che in Israele era stata paradossalmente messa fuori legge nel 94, dopo la strage di Ebron, che era stata fatta da un terrorista che si chiamava Baruch Goldstein, che in qualche modo era risultato affiliato al partito di Meir Kaan. E questo suprematismo in Israele, questo suprematismo sionista, fino a qualche anno fa non era neanche preso in considerazione. Oggi invece è parte attiva del governo. Questo per certi aspetti ha diviso moltissimo la società israeliana, per dire che gli israeli sono tutti d'accordo, e ha fatto sì che ci fossero state comunque 40 settimane di proteste, di manifestazioni contro Netanyahu, precedentemente all'innesco del conflitto, dell'escalation del conflitto. Però poi il conflitto è nato nel 1947, se vogliamo stare alle date. Come il conflitto in Ucraina non è cominciato il 24 febbraio 2022, è cominciato nel 2014 almeno. Poi c'è stato un escalation il 24 febbraio 2022. Però Netanyahu per cercare di compattare il più possibile una società politica interna, che era fortemente divisa anche perché lui aveva cercato di fare delle leggi sull'accentramento dei poteri, la limitazione del potere giudiziario, che non erano state gradite una parte del corpo elettorale israeliano, chiaramente ha accelerato molto, ha spinto molto sul tasto, sull'acceleratore del conflitto e della guerra di invasione. Proprio per cercare di guadagnare tempo e di ricompattare la società, di aumentare i suoi consensi, di proclamarsi come il vincitore del terrorismo, eccetera. Per cui attenzione, sta molto diviso, sta parlando israeliano. Diciamoci la verità, perché tutte queste teorie dei comploti, eccetera, eccetera, nessuno, nessun pazzo, nessun pazzo aiuterebbe dei terroristi a buttare 2000 razzi fatti in Cina sui propri cittadini solo per poter guadagnare un pochettino nella politica locale. Queste sono cose da fantascienza. La realtà è che Hamas è un'organizzazione terroristica, è stata dichiarata tale anche dalle cosiddette Nazioni Unite ai tempi e non è mai cambiato il suo modo di fare facendo kidnapping, rapimenti, uccisione, razzi sempre a distanza, bombe sempre a distanza, alle volte i suicidi con le bombe, poveri disgraziati che vengono letteralmente, gli fanno il lavaggio del cervello, vanno e si fanno ammazzare. Le bandiere, attenzione, in Italia, io raccomando agli ascoltatori di andare a guardare i filmati, delle bandiere, ok, di quelli che si dichiarano soprattutto di sinistra, i poveri palestinesi, eccetera, andate a guardare le bandiere, soprattutto quelle nere, ok, che sono in questi cortei e vedrete delle scritte in arabo, ok? Le scritte in arabo, se le facessero in italiano, nessuno ci crederebbe, ma in arabo le scritte dicono oggi il popolo del sabato, domani il popolo della domenica. Questa è una frase che tra i fondamentalisti islamici è sicuramente Hamas, perché lo mette sulle bandiere, è una frase che gli arabi capiscono molto bene, e cioè oggi ammazziamo tutto il popolo del sabato, che sarebbero gli ebrei che celebrano il sabato, ma domani ammazziamo tutti i cristiani, che sono il popolo che celebra la fine della settimana, la domenica. Questa è una frase che viene scritta, non è che qualcuno se l'inventa, non è una cosa che è stata della teoria di cose, viene scritta nelle loro bandiere e viene vista da tutti quelli che vedono oggi come oggi le dimostrazioni a Londra, a Parigi, a Roma, in Italia, dove caspita vanno, le bandiere nere, vatti a vedere quella scritta, oggi facciamo fuori il popolo del sabato e domani quelli dalla domenica. Questi sono peggio dei nazisti di Hitler, questi vogliono fare un ripulisti totale di tutti gli ebrei, ma domani anche dei cristiani, non solo in Israele, ma in tutte le nazioni del mondo. Questi sono dei pazzi, sono dei terroristi e devono essere limitati al massimo. Questa è la realtà. Chiarisco la tua posizione. Dopo se riesco a prendere parola, perché siete molto agitati stasera, chiedo veramente se mi lasciate dopo lo spazio per fare una domanda così. Sì, Giorgio, ti richiamo in causa a breve. Paolo, intanto se vuoi chiudere o anche controbattere quello che ha detto Giorgio. No, ecco, io perdo sempre il filo perché vengo interrotto, ma non ho l'abitudine di fare lo stesso e continuo con la mia abitudine di non interrompere quando uno parla. Comunque, cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che mi è stata fatta un'obiezione, nel senso che quello che avrei detto sarebbe tirar fuori una teoria del complotto, secondo cui Netanyahu si è fatto fare l'attentato per poi fare repulisti e presentarsi come liberatore. Io non ho detto che Netanyahu si è fatto fare l'attentato, io ho detto un'altra cosa, ho detto che la risposta israeliana è stata una risposta che ha tracimato qualunque idea anche così concepibile di legittima difesa ed è arrivata a un punto in cui ormai sono stati uccisi 10.000 palestinesi, di cui la metà bambini. Ma non diciamo stupidacci, ma dove ce lo stanno i metà bambini? Ti prego, lascialo chiudere, Giorgio. Giorgio, ti prego, ti prego. Ma non ci sono neanche delle scuole. Giorgio, ti do la parola dopo. Giorgio, tocca a te dopo. Non so se tra l'altro l'audio va lo stesso in onda o no, però aspettiamo un attimo che Antonio mi dica cosa fare. Sta andando? Bene, siamo ripartiti con la diretta. Vai Paolo, c'è stato un piccolo problema. Allora, quello che stavo cercando di dire, prima di essere interrogato, è che Gaza è stata definita dall'ONU, non dal sottoscritto, dall'ONU, un cimitero di bambini. Un cimitero di bambini. Per cui dire che non ci sono vittime civili a Gaza, non ci sono vittime tra i bambini, è una mistificazione. Addirittura l'ONU definisce quello che sta accadendo un massacro. Un ex funzionario dell'ONU ha detto stiamo rasentando il genocidio, siamo già nella politica di genocidio. Non lo dico io, è la realtà dei fatti. Israele si è spinta a un punto ormai di aperta politica di guerra di aggressione, finalizzata al trasferimento di persone. Ma l'hanno sostenuto anche l'interlocutore, che fino a poco tempo fa in trasmissione mi dava contro. E quello è dove vogliono arrivare, attraverso politiche di espulsione fatte anche con l'assedio. Ricordiamo che prima di entrare militarmente con i carri armati hanno privato il Gaza dell'acqua, della corrente elettrica, del gas, di qualunque fonte di energia. Per cui di fatto ponendo la popolazione di Gaza in uno stato di assedio per fame e per sete. Gli ospedali di Gaza oggi funzionano, grazie alla buona volontà dei medici che ci sono lì dentro, in condizioni disumane, senza energia, senza medicine. Ma io mi chiedo, se tutto ciò avvenisse a parte inverse, se i palestinesi avessero invaso Israele con questo tipo di potenza di fuoco militare, se avessero ucciso tutte queste persone in maniera indiscriminata, come avrebbero reagito gli Stati Uniti? Come avrebbe reagito la comunità occidentale? Come avrebbe reagito la Nato? Io mi pongo queste domande. Così come mi pongo anche la domanda rispetto al fatto che l'Iran non sia il paese di pazzi che è stato descritto precedentemente. L'Iran è un attore geopolitico razionale. L'Iran non ha mai provocato una guerra nel vicino Medio Oriente. Semmai ha subito e subisce tuttora una politica sanzionatoria per il semplice fatto che non è d'accordo rispetto alle politiche di occupazione che gli israeliani stanno facendo da 70 anni in Palestina e non è d'accordo rispetto al farsi mettere delle basi militari americane sul suo territorio. Perché ricordiamo che i paesi alleati degli americani nel Golfo sono pieni di basi americane. Un mio piccolo quesito. Perché gli americani hanno così tante basi militari nel vicino Medio Oriente? Quanti basi militari iraniani ci sono negli Stati Uniti? La risposta te la devo dare io purtroppo perché George ci ha lasciati. Io ho tentato, qualcuno dice una barahonda, io ho tentato di portare sul confronto. Ma ha parlato solo lui, che c'è Barahonda? No, 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 ha parlato solo lui. Ha rivolto la trasmissione, rivolto la trasmissione. Io dico, ho cercato di creare un confronto tra due opinioni diverse, ma evidentemente non è possibile Paolo, poi siamo d'accordo, insomma, sai benissimo qual è la posizione del partito su queste cose, tu stesso. Un attimo, le risoluzioni dell'ONU non sono un'opinione, le risoluzioni dell'ONU che dicono che Israele deve ritirarsi entro i confini del 1967 non sono un'opinione, è la legge internazionale. Ah, lo so, lo so, benissimo. La risposta di Giorgio prima è stata che all'ONU sono pagati dalla Cina, non lo so. Allora se io rubo, commetto un reato, la giustizia mi condanna, poi dico, il tribunale era di parte, il tribunale era composto da una manica di pagati per farmi condannare, però se la mettiamo così allora giriamo tutti con una pistola in tasca e ci facciamo giustizia da soli. Sì, sì, ma è chiaro, ma insomma comunque il concetto che nella discussione politica è sempre così, ci sono due fronti che si contrappongono e sarebbe stato bello riuscire a discutere, a portare gli argomenti e non interrompersi e arrivare con la rottura, però vabbè, avanti così, non fa niente. Paolo, non voglio rubarti troppo tempo, però veramente in chiusura una tua considerazione sull'atteggiamento invece della Lega Araba, perché adesso, sai, qualche giorno fa si sono radunati, ma in fin dei conti non è che abbiano preso posizioni esplicite in difesa dei palestinesi. Pare che, insomma, forse qui ha ragione Giorgio, un po' vigliacamente si siano tenuti fuori da questo conflitto. Insomma, questi palestinesi pare proprio che, a parte le popolazioni di tutto il mondo che sono scese in piazza a chiedere che il conflitto si interrompa immediatamente, ma insomma, da un punto di vista poi concreto, ecco, pare che nessuno Stato, nessun esercito voglia scendere in campo per difendere questi poveri Cristi sotto le bombe di Israele. Ma certo che nessuno vuole difendere all'interno del mondo arabo-musulmano in questo momento, perché? Perché gli unici che potrebbero difenderli, suscitando veramente un conflitto di contraddizioni all'interno del blocco occidentale, sarebbero i turchi. Tra l'altro la Turchia, contrariamente a quello che si dice e si pensa, è molto più vicina ad Hamas di quanto non siano gli iraniani, perché chi è che è più vicino ad Hamas? Il Qatar e la Turchia, non tanto l'Iran. L'Iran è stato anche in conflitto dal punto di vista politico con Hamas, e anche Hezbollah, perché l'Iran, Hezbollah e la Siria fanno parte del cosiddetto asse della resistenza nel vicino Medio Oriente, mentre Hamas al tempo del primavera arabe ha appoggiato i ribelli siriani. Come i fratelli musulmani avevano fatto, perché Hamas è o è stata la figliale palestinese dei fratelli musulmani. Per cui la Turchia però perché non interviene? Anche se Erdogan ha detto apertamente che sta dalla parte dei palestinesi e che Hamas non è un'organizzazione terroristica, ma un esercito di mujahidin, cioè di liberatori, che lottano per la loro terra. Perché non è intervenuta la Turchia e perché non è intervenuto Erdogan? Perché se interviene scoppia la terza guerra mondiale, forse lui non se la sente o non gliela fanno sentire di fare la parte di chi ha innescato la terza guerra mondiale. Perché se interviene la Turchia, che è un paese della Nato, l'Occidente implode immediatamente, perché l'Occidente non sa cosa fare, cosa fai? La sbatti fuori dalla Nato. E poi cosa fai? La guerra alla Turchia. E questo è un problema. Se invece interviene l'Iran, il blocco occidentale si ricompatte e dice che finalmente i fronti si sono chiariti, da una parte c'è l'asse del bene, Israele e gli Stati Uniti, dall'altra c'è l'asse del male, l'Iran e Zbollah, e finalmente sappiamo che l'Iran è il mandante delle stragi, perché è intervenuto. Mentre invece se interviene la Turchia, l'Occidente conosce comunque una crisi interna, perché da una parte il meccanismo gira da una parte, dall'altra gira dall'altra e si inceppa. Ma la Turchia lo sa tutto questo. E non interviene proprio perché probabilmente Erdogan non se la sente di cominciare la terza guerra mondiale. Ma chi ci rimette da tutto questo? I palestinesi, che se ne dica, stanno morendo a migliaia. Certo. Ringrazio anche uno dei nostri... Per quanto riguarda le bandiere nei cortei, due cose. Uno, nei cortei c'è scritto di tutto. Se andiamo a guardare i cortei che hanno anche un certo tipo di impronta nazionalista, sionista, quello che dicono e che scrivono, forse non è proprio tenero nei confronti dei palestinesi. Dall'altra parte va detto, chi è che negli anni, nei decenni, ha sempre in qualche modo incentivato e incoraggiato il cosiddetto radicalismo islamico, notevolmente di parte sunnita, quasi integralmente di parte sunnita, in funzione antisovietica prima, in funzione antiserba poi, in funzione antisiriana poi, in funzione anti-Ghedafi poi. Chi lo ha fatto? Lo ha fatto l'Iran? Lo ha fatto la Siria? Lo ha fatto Hezbollah? No, lo hanno fatto gli Stati Uniti e il blocco occidentale. In Afghanistan, la guerriglia antisovietica, chi la finanziava? Il Pakistan, l'Arabia Saudita e l'Occidente, gli Stati Uniti in particolare, la Gran Bretagna. Questo credo che sia di dominio pubblico e credo che sia di dominio pubblico anche il fatto che gli imam che in Occidente lanciano messaggi provocatori nei confronti dello stile di vita liberale, non siano sciiti, ma siano sunniti e facciano parte più delle volte di confraternite organizzazioni che nel momento in cui c'è stata da fare la guerra alla Libia e la guerra alla Siria si sono immediatamente schierate con il blocco occidentale perché vedevano nel blocco occidentale comunque un punto d'appoggio che stava in qualche modo destabilizzando paesi come la Libia e la Siria che in quanto laici loro consideravano eretici e non in linea con i precetti del radicalismo sunnita wahhabita. Però il wahhabismo è un'ideologia, è una corrente eterodossa all'interno dell'Islam, dell'Islam sunnita, che sta in Arabia Saudita, proprio in quel paese che l'interlocutore precedente ha definito il più filo occidentale dell'area. Ma non me le invento io queste cose, le ha dette lui. come lui ha anche detto che il sogno degli israeliani, il sogno proibito degli israeliani è quello di trasferire le popolazioni palestinesi fuori da Gaza. Poi lui ha detto i terroristi, ma non si può generalizzare, non si può dire che in Palestina sono tutti terroristi, perché la questione è politica e non di ordine pubblico. Non fila il paragone tra Hamas e le Brigate Rosse, perché le Brigate Rosse in Italia non rappresentavano nessuno, Hamas comunque, piace o meno, rappresenta perlomeno il 35% dell'attuale intenzione di voto dei palestinesi, è un'altra cosa. Poi può piacere o no un altro discorso, questo non c'entra nulla, ma non può essere giudicato come un'organizzazione settaria, terroristica, marginale. È un partito politico che ha un braccio armato, non lo metto in dubbio, ma che ha un consenso di massa in Palestina, cosa che invece le Brigate Rosse in Italia non avevano. Sì, sì, è chiaro. Poi per rispondere anche un po' alla chat, mi scuso se non sono riuscito a tenere le briglie un po' della situazione, però il nostro tentativo era quello di far sentire due opinioni diverse, proprio per non stare qui a cantarcela, a suonarcela tutte le volte da soli e a darci ragione l'un l'altro. Cercavamo anche di far emergere magari qualche argomento diverso da quelli che poi abitualmente utilizziamo, però è andata male, non siamo riusciti a tenere questo dibattito sotto controllo, quindi chiudiamo con te Paolo con una tua previsione, non che sia facile fare una previsione in questo momento storico, però io prima ho chiesto anche a Franco se a suo giudizio questa occupazione del nord della striscia di Gaza fosse ritenuto sufficiente come obiettivo dal governo israeliano oppure se le intenzioni sono proprio quelle di arrivare al confine dell'Egitto e quindi espellere tutti i palestinesi dalla striscia di Gaza e concentrarsi quindi poi sostanzialmente solo sul confine con la Cisgiordania dopo avere in qualche modo eliminato il problema a sud. Dipende, dipende da come anche negli Stati Uniti saranno decisi fino a un certo punto ad appoggiarli o se invece li appoggeranno fino alla fine del loro tentativo di fare un vero e proprio repulisti. Questo non lo so io, non sono in grado di... So che gli alleati suprematisti degli Stati Uniti sia in Ucraina che in Israele stanno cominciando un po' a stare sulle scatole agli Stati Uniti stessi perché vedono che portano solo dei fallimenti alle loro politiche per cui così come Zelensky sta diventando molto scomodo per gli Stati Uniti dopo la sconfitta del blocco occidentale e anche dell'Ucraina nella guerra contro la Russia la sconfitta della controffensiva per lo meno e anche i suprematisti legati a Netanyahu e al suo governo stanno cominciando in qualche modo a diventare così poco simpatici ai loro sponsor e a quelli che sono stati i loro sponsor credo che si troveranno degli altri per rappresentarli in futuro. Sì, ecco allora un'ultimissima domanda che ti viene da Sonia Zontedeschi che chiede se puoi rispondere perché lei sostiene che la religione non c'entri niente sicuramente ha una parte ma a mio giudizio non è forse quella centrale tu cosa ne pensi su questa cosa? Questa non è una guerra di religione è una guerra politica una guerra per il controllo del territorio una guerra per il controllo delle popolazioni dunque anche per il controllo della demografia per il controllo delle risorse come anche giustamente detto Franco Fracassi prima rispetto ai giacimenti di gas le fonti di energia ed è una guerra che l'Occidente sta compiendo sta mettendo in atto per cercare di mantenere ciò che resta della sua egemonia perché se gli israeliani perdono questa guerra anche dal punto di vista anche soprattutto dal punto di vista politico l'Occidente diventa una forza meno in grado di esercitare deterrenza nel mondo nei confronti dei suoi presunti o nemici di volta in volta l'Occidente se perde questa guerra se Israele perde se l'Occidente perde la sua egemonia diventa poi più difficile per un eventuale oppositore del modello occidentale vedere nel braccio armato di questo modello un fattore di deterrenza chi obbedirà più all'Occidente se l'Occidente non ha più l'egemonia militare il dominio militare e questa è una guerra che va al di là della questione oggi uccideranno gli ebrei domani uccideranno i musulmani dopo domani uccideranno i cristiani perché questa è la narrazione nei fatti invece c'è una guerra di egemonia che appunto io paragonerei se non proprio la guerra dei cento anni che è stato un conflitto regionale proprio un conflitto sì un po' forse esteso un pochettino forse Navarra eccetera ma è rimasto confinato tra Francia Inghilterra e Paesi Bassi di fatto Belgio però questo assomiglia molto alla guerra dei sette anni che è stata la prima vera guerra mondiale e per certi versi anche la guerra dei trent'anni cioè una guerra a fase una guerra europea a fase da cui poi è scaturito un ordine perlomeno un ordine europeo ma all'epoca l'Europa era in qualche modo al centro del mondo diverso da quello che vi era prima e poi è stato chiamato l'ordine di Westfalia per cui questa è una guerra che io paragonerei se proprio dobbiamo trovare un paragone storico alla guerra dei sette anni e alla guerra dei trent'anni il nostro riferimento alla guerra dei cent'anni era proprio riferito solo allo spazio temporale quindi dal primo novecento ad oggi e non al conflitto franco-inglese insomma era puramente temporale però ecco tu stavi accennando adesso il fatto che questo conflitto è un conflitto che comporta insomma il coinvolgimento in fin dei conti di tutti i grandi attori mondiali tu infatti hai da poco pubblicato Populismo e democrazia illiberale Goodbye Globalism 2 quindi è insomma il secondo volume di questo tuo saggio che parla proprio di questo cioè della fine del globalismo e quindi questo conflitto in particolare è da inquadrarsi in questo scenario e siamo proprio alla fine a tuo giudizio di quel potere globalista a traino americano oppure c'è anche la possibilità come vi è detto da più parti che ci si ritrovi in fin dei conti in un'altra diarchia una nuova guerra fredda diciamo un passaggio di fase guardate che se è vero come è vero che avversari del blocco occidentale si sono diciamo così armati di coraggio e hanno intrapreso delle azioni anche di matrice bellica contro il blocco occidentale perché questo insubordinazione cioè perché questa insubordinazione contro il blocco occidentale da parte di paesi terzi avviene oggi e perché non è avveniva negli anni 90 e perché quei paesi oggi hanno hanno assunto un ruolo più importante hanno assunto una dimensione strategica economica politica più consapevole e importante e per questo si ribellano in taluni casi cioè noi vediamo le cose con gli occhi dell'oggi ma se noi ci ponessimo in una dimensione di astrazione ci astraessimo dal contingente guardassimo le cose un po' più da distante da lontano con un occhio un po' più disincantato ma vedremo che ciò è nell'ordine naturale delle cose oggi appunto ci pare un atto di insubordinazione di lesa maestà ma è sempre stato così è sempre stato così l'ordine dominante cambia nel momento in cui emergono degli attori che contrastano quest'ordine che hanno la forza per poterlo fare prima l'ordine rimane stabilito poi nel momento in cui ci sono degli attori che cambiano che hanno il potere perlomeno di alzare la testa in qualche modo di cambiare le cose l'ordine subisce degli scossoni ma l'ordine dominante l'ordine mondiale non si può stabilire sulla base di una tradizione basata sul pregresso è sempre stato così e deve andare così per sempre e non è sempre stato così e deve andare così per sempre l'ordine si basa sui rapporti di forza non è che perché gli Stati Uniti fino a questo momento sono stati egemoni o dominanti e debbono continuare ad esserlo per altri mille anni e non possono veder messa la loro egemonia in discussione e possono e come se i rapporti di forza cambiano possono e come e il cambiamento di questi rapporti di forza genera anche degli atti di insubordinazione che talvolta possono assumere connotati violenti ma questo è nell'ordine naturale delle cose perché la guerra dei sette anni in cui una potenza dominante egemone è uscita letteralmente sconfitta e ha perso perché aveva ormai si era visto ormai sgretolare aveva visto sgretolarsi il suo potere residuo in questo caso la Francia ma non è stata scalzata attraverso una insubordinazione violenta degli altri stati è stata pacifica la guerra dei sette anni no ma questo non vuol dire essere simpatizzanti per una parte per l'altra essere preda di così pulsioni politico sportive tifo politico sportivo no vuol dire semplicemente analizzare le cose come stanno cercando di estragnarsi un attimo dalla mera così bagarre sull'attualità e sul contingente effettivamente potranno dare un giudizio più diciamo sereno su quello che sta accadendo oggi gli storici tra 50 anni così come oggi se avessimo parlato della guerra dei sette anni probabilmente non ci sarebbe stata una tensione in studio come quella che invece si è verificata perché ormai i dati sono acquisiti e gli interessi non ci sono più perché non ci sono neanche più i protagonisti di quel conflitto ma quel conflitto è stato violento ma tutti i conflitti d'altronde e all'epoca avrà suscitato delle pulsioni delle simpatie delle antipatie reciproche da parte degli attori ai posteri lardo di sentenza insomma come disse il Manzoni ma un'ultimissima cosa veramente un minuto Paolo poi chiudiamo che sono andati lunghissimi stasera però giusto per così prendere spunto da quello che stavi dicendo tu adesso ma è possibile che diciamo così i camerieri ecco della grande finanza e penso anche a camerieri americani come il partito democratico in questi ultimi anni e Biden in particolare oggi come presidente è possibile che costori quali ormai da anni lo sappiamo ci parlano di questo nuovo ordine mondiale pensassero proprio a qualcosa come i BRICS guidati dalla Cina e quindi che questo nuovo che avanza questi BRICS e questa potenza cinese che sovrasta sempre di più comunque diciamo mette in discussione il dominio statunitense che abbiamo visto fino ad oggi sia proprio quello che coloro i quali parlavano di ordine mondiale avevano in mente le contromisure le avranno anche prese non lo so penso di sì così come è nell'ordine delle cose pensarlo però io mi chiedo se l'opinione sulla Cina è questa nel momento in cui perché avverrà non pensiamo gli Stati Uniti apriranno un nuovo fronte a Taiwan con un nuovo Donbass a Taiwan Taiwan sarà il nuovo Donbass su questo non c'è dubbio se dovesse nascere e dovesse esserci e ci sarà un conflitto per procura tra Stati Uniti e Cina perché un conflitto diretto lo vedo piuttosto impossibile e la Cina città da 30 milioni di abitanti per mantenere un controllo militare ma comunque anche per questo stanno insistendo molto sulle nuove tecnologie per il controllo sociale perché controllare cercare di controllare città da 30 milioni di abitanti con un esercito non lo puoi fare un esercito tecnologicamente non all'avanguardia devi stabilire dei dispositivi di controllo sociale per poter attuare tentare di attuare questo tuo piano però rimanendo all'attualità per ora non ci sono questi dispositivi spero che non li scoprano mai e non li utilizzino mai ma sai chi vive sperando però nel momento in cui dovesse esserci ci sarà un nuovo Donbass nel Pacifico in questo caso a Taiwan cosa facciamo ci schieriamo con gli Stati Uniti perché la Cina non è simpatica dal punto di vista del suo sistema politico interno questa è una domanda che anche all'interno del mondo del dissenso a mio parere ci si deve porre perché quando ci sarà una situazione del genere al di là di tutto si dovrà prendere posizione e non è impensabile anche se io naturalmente sto fantasticando perché non ho la sfera di cristallo che la presidenza Trump un'eventuale presidenza Trump o di un suo epigono possa essere protagonista di uno scenario di questo tipo allora cosa facciamo ci schieriamo con gli Stati Uniti perché dall'altra parte ci sono i comunisti sarebbe un errore estremamente grave e che tradirebbe qualunque tipo di impostazione multipolarista che secondo me è necessaria e obbligatoria se si vuole far parte di questo schieramento politico delle forze del dissenso nella speranza che il mondo diventi multipolare e non si ricada sotto legemonie dell'uno dell'altro e che quindi si verifichi e si realizzi ecco quella sovranità da noi tanto desiderata salutiamo e ringraziamo Paolo Borgognone per essere stato con noi grazie a voi grazie anche a tutti coloro i quali ci hanno seguito buonasera a tutti ci vediamo giovedì con la Mertori Mondini per l'altra storia d'Italia buonasera grazie a tutti